State attenti che non ci siano qualcuno un po' svelto o troppo furbo che vi dica che si deve pagare. No, la salvezza non si paga, la salvezza non si compra. La porta è Gesù, è Gesù e gratis. Grazie a tutti. La misericordia e il perdono non devono rimanere belle parole ma realizzarsi nella vita quotidiana. Amare e perdonare, ha detto Papa Bergoglio, sono il segno concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di esprimere in noi la vita stessa di Dio. Un altro segno importante del Giubileo è la confessione che permette un'esperienza diretta di Dio che perdona tutto e comprende anche i nostri limiti e le nostre contraddizioni. Di qui li invito a procedere con coraggio nella vita, sostenuti da un amore infinito e a farlo anche nella ricorrenza dei 50 anni dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II che ha contemplato e presentato la Chiesa alla luce del mistero della comunione. Per portare lui e il suo amore.